L'Anfiteatro delle Ciminiere di Catania è diventato il palcoscenico di arte e moda, evento patrocinato dalla città metropolitana di Catania e organizzato dal Circolo degli Artisti, presieduto da Federica Cappelletti. Molti momenti di spettacolo, musica e moda, come la sfilata di Cinzia Dori, miti e leggende, i gioelli di Marco Restano, Simone Elia e Alfredo Barella. La presentazione del libro Ali D'Angelo di Massimo Belenato, figlio dell'indimenticato attore cinematografico Franco Franchi con l'editore Nicola Macaione. Ed ancora la sfilata di Lucia Caccamo, la comicità di Massimo Spada, ancora una volta la sfilata di Agada Cosentino, spazio anche alla musica con Viola Valentino, Roberto Serafino e Ammino Cassano, toccante il momento dedicato a Il Sogno di Morgan, di Giussi Olive e Cinzia Dori. Straordinale la presenza di Zabbo Nicolosi, regista e sceneggiatore. Ancora una sfilata triquetra della stilista di scarpe Lisa Rena, momento anche dedicato alle donne con la presenza di Corrado Armeri, Agorà Stupor Mundi. Molti premiati, tra cui Alessandro Numini della cooperativa sociale Sofia, il vicequestore Polizia di Stato, dirigente del commissariato di Adrano Paolo Leone, Meri Bellome, Giussi Scireti contro le barriere architettoniche. Premio anche a Rosario Scandurra, presidente della Fondazione Sant'Agate. Ospite d'onore il cantante, comico, conduttore televisivo, sceneggiatore e commediografo Pippo Franco. Vorrei incontrare un grande personaggio. Lui è un attore, un cantante, un comico, un conduttore televisivo, un sceneggiatore e un commediografo. Ma è un amico nostro e vostro, ma soprattutto un amico di Morgan. Pippo Franco, eccolo qua. Grazie. Allora Pippo, intanto grazie per la tua disponibilità. Tu vieni spesso ormai a Catania e io voglio iniziare questa bella cacchierata con te. Ebbene, è già bella, già l'ha stabilito lui, io spero che sia bella. Dovete pensare che tempo fa, avevo detto, molti anni fa, avevo detto Pippo, senti, ti dico in anticipo le mie domande. Lui mi ha detto no, non mi dire niente. Perché la risposta ancora più spontanea è quello che determina poi la diretta, insomma, il bello della diretta. E quindi meglio andare in totale libertà, vai. Allora, io ti dico, leggo perché non voglio perdermi niente, è una cosa che hai detto tu stessa. L'intelligenza irrazionale ha un dono sacro. L'intelligenza razionale è un fedele servo, ma questa civiltà onora il servo e ha dimenticato il dono. Devo aggiungere che non è una cosa pensata da me perché io, insomma, non sono in grado di pensare, o meglio di pensare così profondamente, anche se vivo una vita fatta esclusivamente di dimensione spirituale, ma lo ha detto Einstein ed è tipico degli artisti perché tutti gli artisti, invece di lavorare in termini, quando creano o devono dire qualche cosa, in termini di azione e pensiero, agiscono nell'inverso, pensiero e azione perché prendono i suggerimenti dal sesto senso. È l'intuito che guida ogni artista. E quando ti guida l'intuito non solo non commetti nessun errore, ma sei ampiamente te stesso, insomma. È l'importanza del seguire l'istinto. Questo vale anche per tanti aspetti della vita, come per esempio l'amore. L'amore è irrazionale perché non può essere costruito da un pensiero, se no è una sorta di convenzione e quindi è un modo di vivere, secondo me, parecchio interessante da considerare. L'amore è irrazionale perché non può essere costruito da un pensiero, determinanti, ho parlato prima dell'amore, ho conosciuto mia moglie, quella che adesso è mia moglie e abbiamo due figli, l'avevo appena conosciuta, poi lei era partita perché c'era l'estate e io stavo a casa di un mio amico in Toscana per passare agosto con lui. Ebbene, io ho avvertito la mancanza di questa donna ed era un sentimento che non avevo mai conosciuto e cioè mi sentivo destabilizzato e temevo di non poterla rincontrare, l'hai visto mai, insomma. E quello era un'anticipazione del sesto senso ed era appunto quello che voleva il destino e se non avessi avuto questa mancanza i miei figli non sarebbero nati. Poi ho fatto una cosa un po' audace perché quando lei è tornata io gli ho detto senti io vorrei trasferirmi da te, ti do una settimana di tempo, dimmi se è possibile, lei non mi ha fermato e siamo andati avanti. La mancanza di tuo padre penso che abbia influito molto proprio sul sesto senso. Sì, adesso lasciamo perdere il senso senso in quanto tale o meglio sappiamo che guida tutta la nostra vita, soprattutto con l'artistica, ma tutta, ma le cose che ti accadono soprattutto, chiamiamole le disgrazie, sono delle informazioni che poi determinano la tua esistenza. Cioè io ho conosciuto mio padre che avevo sei anni perché era prigioniero in Africa, non lo conoscevo, poi è arrivato a casa e è mancato poco dopo perché stava male e quindi sono vissuto sempre con l'assenza di mio padre. Ma lui proprio per questo è sempre continuamente presente, come se stesse sempre con me. Ma quella cosa mi ha determinato la mia vita. La nostra vita è fatta di piccole cose perché esiste anche il microcosmo. Se tu giri una strada e ti casca una decola in testa e se giri l'altra strada non accade, ma se ti accade qualche cosa allora vuol dire che quello è un elemento che ha costruito e che costruisce la tua vita. Quindi vediamo i dolori superati come un'informazione importante che ci ha fatto crescere. Tu sei stato un pittore ma anche un musicista, facevi parte di un gruppo musicale dei Pinguini. dei Pinguini a Cepicchia ti sei molto informato. Io nasco come pittore e come musicista, nel senso che ho studiato al liceo artistico, ma la sera lavoravo anche nei locali notturni con questo gruppo che era i Pinguini. Quindi diciamo che la pittura, la storia dell'arte, la musica mi hanno appassionato e hanno indirizzato bene la mia vita. Ho preso moltissime informazioni da queste realtà. Poi ho disegnato fumetti per tre anni, poi ho fatto il cantautore, ho cominciato a scrivere le prime canzoni, poi l'attore perché la presentazione delle canzoni aveva la preeminenza sulle canzoni stesse e poi tutto quanto il resto. Insomma, lo sceneggiatore, il musicista, in senso che ho musicato molte cose, il regista e il conduttore, ecco, tutte le altre follie che ho attraversato. E poi ho avuto l'incontro con Mina, che tu suonavi la chitarra in un modo affascinato dalla chitarra, ma affascinato soprattutto dal personaggio. Quello è stato il primo lavoro che ho fatto in questo senso, perché io stavo facendo l'esame di storia dell'arte e di maturità, però in quel momento, mentre mi stavano interrogando, partiva un treno per Ischia e io facevo parte della band di Mina, suonavo la chitarra e se non avessi preso quel treno mi avrebbero sostituito, perché il cinema è fatto di cose che non possono aspettare me in sostanza. Quindi ho detto al professore, sapendo che avrei ripetuto a ottobre l'esame, dico, professore, posso andare a prendere un caffè? E lui dice, ma prego, prego, si accomodivata, io sono corso sul treno e ho fatto questo film e mi ho ridato poi all'esame a ottobre ed è andato tutto bene. Però da lì è cominciata tutta la mia, chiamiamola, carriera. È cambiato il mondo. Prima la nazione era poetica e noi, inventando quello che poi è stato definito il cabaret, interpretavamo il nostro tempo, cioè la nostra realtà, ma era ancora una nazione in cui si viveva e si ricordava la propria storia in sostanza. Oggi si è capace che firmi un ragazzo per strada e gli chiedi chi è Socrate, ti chiede in quale squadra gioca, hai capito? Quindi oggi il mondo è completamente diverso, è diventato privo di contenuti, non privo, non del tutto privo ovviamente, ma tendenzialmente basato sugli aperitivi e i contenuti in fondo non li cerca nessuno. Se guardi anche la televisione vedi che è governata da tutti i giochi, da tante cose e anche lì oggi di profondità ne vedo poca, non come una volta, insomma, non c'erano quei programmi di allora e quindi ecco che il mondo di oggi è completamente diverso anche perché ci sono degli aspetti positivi, in questo senso si comunica con i social, il linguaggio è diverso e il pubblico non ascolta più le parole ma guarda, per cui le soglie di attenzione sono diverse, si parla, ci sono le influencer, ci sono tante altre realtà e bisogna tenerne conto in pratica. A proposito di influencer, ho avuto ospite dei curatori della mostra di Caravaggio, si parlava che Caravaggio addirittura è uno degli influencer che già anticipava un po' i tempi. Caravaggio ha anticipato i tempi, però nel momento in cui è vissuto era, non dico sconosciuto, ma era praticamente sconosciuto, è stato anche un po' dappertutto, è scappato, ha avuto un problema di un omicidio perché allora si facevano anche i duelli, però ora era un artista talmente all'avanguardia e c'era solamente lui allora nel mondo che raccontava un mondo particolare, un mondo drammatico, la cui drammaticità veniva anche dalla luce che veniva sempre da una parte insomma e che rendeva, era come girare un film con una fotografia evoluta e rendeva più emozionante tutto quello che ha fatto in sostanza e tutti i lavori che ha fatto avendo avuto dei problemi pure politici, è scappato pure in Sicilia, insomma una vita molto molto movimentata e alla fine della sua vita era quasi impazzito, girava per la Feniglia che sta in Toscana, aveva perso alla ricerca dei suoi lavori, però è stato il più grande pittore della sua epoca perché ha influenzato tutti quanti gli altri pittori, se non ci fosse stato Caravaggio la pittura non sarebbe andata avanti così come è andata, ma c'è una cosa da ricordare, c'è un quadro famoso di Caravaggio, quindi tutti i fondi scuri, tutte immagini grandiose in sostanza, un quadro famoso che è Natura Morta di Caravaggio, così si chiama, e vedi un cesto di frutta su un fondo che sembra quasi dorato, quasi tutto quanto chiaro, contrario all'esatto a tutto quello che aveva fatto prima in sostanza, però se osservi questo lavoro di Caravaggio è molto importante vederlo, scopri e guardi le cose in profondità e Caravaggio ti spinge a farlo e tu scopri che la frutta che ce l'ha è una frutta anche un po' avariata, non è una frutta fresca, è una frutta consumata in questo cesto e dietro questo fondo dorato, chiaro, che non è il fondo di Caravaggio e ti domandi qual è il contenuto, il contenuto è il seguente, quella frutta è la nostra vita perché noi siamo destinati a scomparire e quel fondo è il cielo che ci accoglie dopo la nostra vita. So che tu sei stato alunno di Renato Guttuso anche se lui forse disertava qualche lezione. Al liceo artistico Guttuso veniva raramente, ma anche allora i professori erano un po' così, però Guttuso pure ha determinato tutto quanto un modo di essere della pittura di allora e ha determinato quella sorta di realismo rivisitato con quella presenza, con quei colori in sostanza e quindi è stato importante e comunque la sua non presenza è stata importante, ma sono stati importanti anche altri pittori con i quali ho scambiato parecchie esperienze e sono andato avanti perché quando appunto dipingevo sono passato dal figurativo all'astratto come ho detto e vale tutto perché lo traduco in un altro modo, non c'è distinzione fra il figurativo e l'astratto perché c'è tanto astrattismo nella pittura figurativa quanto ce n'è nelle tele di Fontana, bisogna saperle leggere e vivere la vita esattamente così. La vita, la parte sostanziale della vita è la realtà invisibile ed è quella che dobbiamo cercare di rendere come una pratica, levare i veli che nascondono i formalismi e cercare di capire che la realtà è fatta di emozioni, è fatta di tante altre cose, è fatta di cose invisibili che sono quelle più importanti. Che fine ha fatto l'uomo? L'uomo di oggi ha fatto una fine dalla quale prima o poi dovrà vedersi e lo dovrà considerare perché l'uomo di oggi è diventato un numero, il suo codice fiscale, la pedina di un profitto internazionale, è diventato ed è imprigionato con il PIN, cioè il Personal Identification Number, cioè c'è un numero personale di identificazione e l'intelligenza artificiale sicuramente non è amica dell'uomo in tutti i sensi, voglio dire lo è per certi versi ma non lo è per altri aspetti, però l'uomo ha dentro l'umano e troverà il modo di difendersi, penso che è un uomo quello di oggi che deve difendersi da una serie di aggressioni a partire dal distinguere la vita interiore da quella esteriore, ma l'uomo se la caverà sempre. Nella tua vita devi dire grazie a qualcuno? Sì, nella mia vita e nella nostra vita noi dobbiamo ringraziare sempre la dimensione soprannaturale, da quando andiamo a dormire a quando ci svegliamo, a tutte le cose che accadono, se camminiamo, se pensiamo, se amiamo, se dormiamo, se ci svegliamo, se mangiamo, ma soprattutto grazie a tutta quella creatività che guida la nostra esistenza per noi artisti è un ripetere continuamente grazie Spirito Santo perché è quello che ci guida ed è quello che ci dà le intuizioni e che ci fa capire cosa dobbiamo fare. Io vivo cercando di capire che cosa vuole lo Spirito da me, non sempre riesco a capirlo, però diciamo grosso modo riesco a vedere e ringrazio, ringrazio sempre e continuamente tutto e tutti. Io la notte mi addormento appunto ringraziando lo Spirito e la vita e prego e la mattina quando mi sveglio ringrazio lo Spirito e ringrazio anche voi che mi avete sopportato fino a questo momento, grazie. Ci hai emozionato anche con le tue parole ma sono sicuro che hai fatto Felice Morgan, hai fatto tutto. Beh, sai. Se è vero e tu lo sai, io non ti sbilanci mai, eppure i tuoi difetti so che mi affezionerei, e comunque amore mio, anche se l'India non fai, se tu non esistessi è così che ti vorrei. Sì! Grazie a tutti!